Oggi i tatuaggi ce li hanno quasi tutti. Se non c'hai il tatuaggio, quello fa a me e sto ragazzo mi puzza. Come mancilla? Che cosa ha da nascondere a sto ragazzo? Ma niente, non gli piacciono? Impossibile. Non fa la peri time. Non c'è il tatuaggio e sto ragazzo fa qualcosa di losco. Che la peri time fa parte del paniere pure quello. Non fai la peri time. Sei un nullo. Lui fa la peri time. Da come stai, fratello, evita qualche... I tatuaggi sono tanti e tali nel tatuaggio. Una volta il tatuaggio, oggi è Maori, tribale, africano. Io dico, ma santo, giapponese. Posso perdere un minuto sul tatuaggio giapponese? Posso? Posso? Posso. Allora, tu ti scrivi in giapponese, è il nome tuo? Ti chiami? Giuseppe. Giuseppe in giapponese. Questo è Giuseppe in giapponese. Non è brutto? Giuseppe, che cazzo? Ragazzi, se la buttiamo in cacciara non va bene così, eh? Giuseppe in giapponese. Se ti chiamavi Giuseppe, era così. Pensa, un accento ti ha sfonnato tutto il nome. La gente si veste il nome africano, ma... E che è Maori? Io mi domando e dico, è il tatuaggio Maori, con tutto il rispetto. Tu abiti a Sub-Augusta, che è zona mia, abiti a Sub-Augusta. Ma che c'è devi fare col tatuaggio Maori? Scrivi Giuseppe in Maori, con tutto il rispetto, Giuseppe, ti voglio bene. Ma dal quadraro alla discesa, a Sub-Augusta, quanti Maori potrai incontrare? No, no, chiedo. No, 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 no. Quanti Maori? Eh, te lo immagini? Davanti all'Atlantic. Giuseppe! Entriamo un po' nel ridicolo, perché una cosa, il tatuaggio è una cosa, è deturpare un corpo. Lascia perdere noi, noi vabbè siamo gente normale, ma pure un giocatore di calcio, un nazionale, tipo Girardino. Guarda che roba, guarda che tatuaggio si è fatto. Peppa Pig. Ma dico... Io sono Peppa Pig. Questa è mia madre, questo è mio padre, questo è mio fratello. Ma veramente, il ragazzo ti viene la pelle di oca, di oca. Per esempio, molti tatuatori invece, sono contrari alle date, lo sai? Non mettono la data, perché è un simbolo magari di un momento brutto, evitano le date. Lo sai, questa cosa non la sapete, non lo sapevo neanche io. Quando sono parlato con questi tatuatori, c'è la data, i numeri. Io dico, la data, che data ci devi mettere? La data che hai conosciuto questa, che è una data da ricordare, con tutto il rispetto. Simpaticamente, lo dico in amicizia, lo siamo tutti carissimi. Quando l'hai conosciuto? Vedi, la data? L'8 marzo. L'8 marzo, tu ti segni. 8 marzo. La festa di donne. Ti stava a stocchizzare, ti stava a cercare. 8 marzo. Mi c'è stacca la camica, dove stacca con te? 8 marzo. Ma no, ma scriveci i numeri utili. Che ne so? Il codice fiscale. Il PIN. Liban. Tu vuoi dire Liban? Marco due. È bello. No, è cose utili, è cose che non ti ricordi. Il codice fiscale è quello per tutta la vita, no? Non è così. Vediamo, guarda io, ci vogliamo divertire. Non c'ho niente con i tatuaggi, sono carinissimi, perché io quando ho cominciato a fare i tatuaggi, io l'ho fatti tantissimi anni fa e me li sono anche levati, me li sono fatti sotto casa, a Via Sannio, con gli aghi. Si ricorda? Gli aghi e il filo. Ci facciamo così, certi bocci. Così, ma ti ricordi, il tatuaggio però nasce, Giuseppe, tu te lo ricordi perché ti vedo che sei delinquente, nasce in carcere. Il tatuaggio nasce in carcere, o in marinaio, che scriveva odio a polizia, amo mamma, polizia non te temo, mo scrivi Equitalia, attacche dal cazzo che hai uso. E mo è bello, mo sì. Hai verso, oh. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.